che è successo qua ma che capicaccio che va di queste note si capite no io non ho fatto niente però c'è la polizia che fa tipo 7 di car davanti alla coda e vi hanno vendato a tutti però non ho capito la motivazione non c'è niente non c'è niente ma non mi sembra che vi rompete troppo non c'è niente non c'è niente non c'è niente io non ho visto un cazzo vengo da Imola per fare così vuol dire che un motivo c'è perché la devo venire a spiegare a te guarda un po' guarda un po' i salenari vengono a ricominciare la strada e per te non ci sa se dopo no ma no il positivo ci sarà per farci rallentare non è quello come dall'alto che veniva in destra di far un po' positivo con le ho visto sul computer sei ha visto in destra di chi Wert considera un po tusc' nicht c'era una crighetta nuca ma cavolo aveva le mani in tasca la già sono e i piedi dei pedale sott сразу